Dal 21 giugno anche le marche passeranno da zona gialla a zona bianca. E' questa l'indicazione che arriva dal monitoraggio regionale sul Covid-19 che per la terza settimana consecutiva colloca le marche fra quelle regioni con una incidenza al contagio inferiore ai 50 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Un requisito che abbre le porte al passaggio dal giallo al bianco. Due settimane fa la regione contava un'incidenza di 30 casi, la settimana scorsa si è andata sotto i 20 casi e i dati degli ultimi giorni proseguono la decrescita. E' attesa per venerdì l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che colorerà di bianco le marche così come tutte le altre regioni d'Italia rimaste in giallo, ad eccezione della Valle d'Aosta che potrebbe tardare di un'altra settimana. In zona bianca decadono gran parte delle restrizioni, a cominciare dal coprifuoco che peraltro da lunedì 21 giugno sarebbe stato abolito anche in zona gialla. Non ci sarà più limite al numero di persone che si possono ospitare a casa così come al ristorante e al bar non ci sarà limite al numero di commensali nelle tavolate all'esterno. Resta invece fissato a 6 il numero di persone che nei ristoranti al chiuso possono sedersi allo stesso tavolo. Rimangono invece regole ferre quelle che prevedono l'obbligo di mascherina e l'attenzione rigorosa al distanziamento. La provincia di Pesero Rubino viaggia verso la zona bianca spinta da una velocità di vaccinazione che si è allargata anche a nuovi punti di somministrazione. Come quelli sui luoghi di lavoro, con marche multiservizi e rivacold che in settimana sono state le prime aziende attivatesi come hub per i dipendenti. Entro la fine del mese arriveranno invece anche i vaccini in farmacia, 125 quelle che hanno aderito nelle marche. A Pesero ci si comincerà a vaccinare in farmacia dal 28 di giugno.